Buona serata da prealpina.it. Varese dice addio a un altro pilastro della Bosinità. Si è spento questa mattina Augusto Caravati, classe 1929, abile imprenditore nel mondo dell'edilizia, eccellente scultore, ma anche e soprattutto a lungo regiù della famiglia Bosina. Il funerale è previsto venerdì 23 aprile alle 15.15 nella chiesa di Sant'Antonio da Padova alla Brunella. A una settimana dalla scomparsa del poeta Natale Gorini se ne va l'uomo che quattro anni fa ricevette il premio Circolo degli Artisti di Varese, sostenitore del pieno recupero artistico nei primi anni Ottanta delle Cappelle della Sacromonte. Caravati è stato artefice di tanti progetti, tra cui il Cinemateatro Impero e nel 1966 anche del Cinemateatro Vela, prima sala senza barriere architettoniche, e ancora dell'Ido della Schieranna, del paraghiaccio e del velodromo Luigi Ganna. Un altro lutto colpisce invece il mondo dello sport. Se n'è andato questa mattina Giuseppe De Luca, Peppo per tutti quelli che lo hanno conosciuto. È mancato a pochi giorni dal suo sessantesimo compleanno nell'ospice della Clinica dei Pini a Besano. A Indunolona allenava i bambini appassionati di calcio come istruttore all'US Bosto. Da un paio d'anni una malattia lo aveva allontanato dalla sua grande passione. Peppo, ricorda Mauro Brattesani, uno dei dirigenti della società sportiva, cercava di trasmettere la voglia di non mollare mai, di essere sino alla fine capaci di lottare per un obiettivo. E non lo faceva dall'alto di una cattedra, ma dai campi di capolago, che ci fosse sole o pioggia, portando in dote ai nostri pulcini la sua umanità. E veniamo alla pagina Covid. Sono 221 i nuovi positivi registrati in provincia di Varese. I tamponi processati in tutta la Lombardia sono stati 49.417 e l'indice del contagio si attesta al 4,2%. Calano i ricoveri in terapia intensiva, ora sono 667, e calano anche gli ingressi nei reparti Covid. Se ne contano 117 in meno, per un totale di 4.522 unità. Resta sempre alto, purtroppo, il numero dei decessi, oggi 72. Nelle altre province, Milano conta 531 positivi, Brescia 310, la provincia di Monza e Brianza 162 e Como 153. Le telecamere di prealpina.it all'interno del Grand Hotel di Campo dei Fiori. Ecco il servizio di Marco Croci con le immagini di Stefano Benvenu dell'Agenzia Blitz. Aperto nel 1913, dopo tre anni di lavoro, il Grand Hotel il Campo dei Fiori rappresenta il principale esempio di stile Liberty sul territorio. Chiuso poi nel 1968 ha attraversato due guerre mondiali, diventando anche nel 1944 un ospedale militare. Nel 1947 il tetto fu distrutto da un incendio e fu poi parzialmente ricostruito. Ma cosa c'è adesso nel futuro del Grand Hotel? Si parla di vari progetti, di una struttura ricettiva, di un polo museale? Insomma ci sono tante ipotesi sul campo. Ma per avere risposte a queste domande cominciamo a vedere all'interno come è strutturato, come si presenta oggi il Grand Hotel Campo dei Fiori. Cerca lavoro su internet e finisce per essere accusato di truffa. Uno studente varesino di 26 anni ha inserito un anno fa il proprio curriculum in una piattaforma online che permette l'incontro tra domanda e offerta. Dopo qualche settimana la prima opportunità da una società inglese che chiedeva innanzitutto di compiere un test di traduzione dall'italiano alla lingua britannica. Superata la prova ecco la richiesta di inviare carta d'identità, passaporto, patente e anche un autoscatto con uno dei documenti. Poi riavvicinamenti e sparizioni. Infine soltanto guai. A novembre il varesino è stato contattato da una persona di Perugia che rivendicava di aver acquistato da lui una ciclette. Ma dopo il versamento sull'Iban di una banca varesina la bici da appartamento non sarebbe mai arrivata a destinazione. Dopo qualche giorno un'altra chiamata sempre per un attrezzo sportivo pagato 650 euro ma mai arrivato. Il giovane asporto denuncia alla questura di Varese e la banca chiamata in causa ha bloccato il conto. Una denuncia l'ha poi incassata allo stesso 26enne ancora per un acquisto sportivo non andato a termine a San Mignato. Dopo la Toscana le Marche. Avere fornito a sconosciuti i propri dati non ha certo portato fortuna. Il rischio è di trovarsi di fronte ad altre denunce che i legali dovranno prontamente contestare. E chiudiamo con lo sport. Città di Varese sconfitto a karate Brianza. Il recupero di campionato contro la Folgore ha segnato oggi pomeriggio una sconfitta dolorosa per 1 a 0 maturata dopo appena tre minuti con il gol di Valagussa. Brutta notizia l'ennesimo infortunio al ginocchio per Gazzo. Domenica contro il Casale la formazione sarà da reinventare completamente. Il nostro notiziario termina qui. Questa era l'ultima notizia. Vi diamo appuntamento domani alle 13 e vi auguriamo buona serata.